Tre giornate dedicate a 72 visite gratuite per la prevenzione oncologica delle neoplasie tiroidee. Sono quelle che porterà l'ambulatorio mobile di Fondazione Ant in Piazzale della Libertà a Pesaro il 3, 4 e 5 aprile grazie al prezioso sostegno della Banca di Pesaro. Ci si può iscrivere già da oggi 20 marzo a visite che consentiranno ecografie per la diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei sospetti. Siamo veramente orgogliosi di poter donare alla cittadinanza di Pesaro queste tre giornate di prevenzione grazie alla BCC del Credito Cooperativo qui della città. È importantissimo mettersi insieme per riuscire a promuovere la cultura della prevenzione. Cultura della prevenzione che è stata decisamente disattesa negli anni del Covid dove è stata trascurata ma la prevenzione diventa fondamentale per la salute dei cittadini. Ed è in questo senso che noi partecipiamo alla Pesaro 2024 città della cultura. Cultura della prevenzione significa salute per la cittadinanza. Il 3, 4, 5 di aprile saremo nella Piazza della Libertà per donare attraverso ricordo la BCC di Pesaro 72 visite gratuite per i tumori della tiroide. In 20 anni l'azione di Ante ha raggiunto 264 mila pazienti di cui 18 mila nell'anno appena trascorso. Un'azione che alla storica assistenza domiciliare ai malati di tumore ha affiancato attività di prevenzione e sensibilizzazione con la BCC da tanti anni a sostegno sul territorio. Prevenzione è soprattutto cultura perché poi sappiamo benissimo che molte volte determinate situazioni si riescono ad anticipare e a prevenire situazioni che poi se non prese in tempo potrebbero portare purtroppo a situazioni più serie. Quindi una cultura che va sviluppata, quindi quando si parla di cultura è obbligo di tutti e delle aziende soprattutto non solo andare al di là della parte economica del mero profitto ma cercare di vedere un qualcosa di più che deve essere di sostegno alle famiglie e soprattutto molte volte anche dei familiari che con l'età purtroppo che avanza, questa è una cosa naturale, hanno sempre più bisogno di avere sostegni non solo pubblici ma soprattutto anche dal privato. Ribadire l'importanza di questa collaborazione, una collaborazione al di là della parte economica, del contributo che la banca deve sostenere ma soprattutto questa vicinanza e questa attività di avvicinare la cultura al sociale e alle iniziative sociali sono di fondamentale importanza soprattutto nella mission che non mai dimenticare che ha un credito cooperativo ma come ce l'hanno soprattutto le cooperative in genere che sono un sostegno alle iniziative sociali dei territori indipendentemente in cui poi dove operano.